Sì, guarda qui, guarda, 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 guarda che mostro in sciattolo. Ma non è, non c'è un raggio, quindi per quanto è absurdo non... Guarda che strada di nuve, andiamo a farlo. Qui, se noi stiamo a direzione qui... Vai alla linea? Sì, nella linea, ma a lungo di questo nucleo qui, questo nucleo qui è pericoso. Sì, guarda come sta vindo, guarda come pucia lì, guarda. È nella linea di stabilizzazione che fa... Non...